bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale oggi vi porto un metodo con l'auto officina per fare i borsoni colorati questo metodo l'avevo già portato in passato ragazzi siccome a mille account nuovi che devo preparare ho riprovato a farlo e funziona ancora allora requisiti auto officina e bisogna aver preparato almeno il colpo bisogna aver fatto almeno le due preparazioni per startare il colpo allora vi dico già che il borsone nero si riesce a portare con questo metodo e ragazzi tutti gli altri colpi porteranno un borsone colorato diverso quindi una volta che abbiamo fatto le due preparazioni del cavolo ragazzi andremo a startare il colpo lo andremo a startare anche da soli senza nessun problema una volta ragazzi che saremo spawnati all'interno dell'attività non ci restereà altro che stare a selezionare un completo diverso da quello che abbiamo noi non succederà niente ma voi dovete farlo lo stesso per 5 6 secondi a questo punto una volta fatto ciò ragazzi potete anche switchare tutti i completi che avete semplicemente dovete quittare l'attività come fate aprendo il telefono facendo axa oppure x quadrato x se giocate da ps ragazzi a questo punto una volta quittato ragazzi quando spawneremo in lobby o abbiamo fortuna e spawniamo subito col borsone oppure ragazzi se succede come è successo a me che spawno con il borsone per una frazione di secondo e poi despauna guardate bene non è un problema semplicemente aprite il vostro menu di pausa andate al creatore ragazzi una volta che siete al creatore tornate online e quando saremo online e sbada bamme raga avremo il borsone equipaggiato adesso dovremo andarlo solo a salvare quindi non ci incischiamo prendiamo il nostro oppressor e dirigiamoci ragazzi dal negozio di maschere una volta ragazzi qua dalla zona del negozio di maschere e siamo abbastanza alti ci lanciamo dall'oppressor apriamo il paracadute e cerchiamo di atterrare regà prendere una bella facciata contro il negozio di maschere quindi regà una volta che siamo vicini stiamo belli attenti sbattiamo contro il negozio spammiamo freccia destra e sbada bamme raga potremmo andare a salvare il nostro outfit lo salviamo dove vogliamo e lo chiamiamo come vogliamo a questo punto una volta salvato ragazzi semplicemente apriamo il menu interazione e andremo a selezionarlo e come ben vedete sbada bamme avremo il nostro borsone e l'avremo salvato ragazzi lasciate un like se vi è è stato d'aiuto e alla prossima bella regà grazie a tutti grazie a tutti